Temi sanitari, punti nascite in difficoltà, parla un ex ostetrica e dice serve più personale. La sicurezza di mamma e bambini non può essere messa a rischio dai turni dei medici costretti a dividersi tra Padova e Piove di Sacco per garantire l'attività del punto nascite salvato dalla chiusura prevista dalle recenti normi nazionali per le ostetrici sotto i 500 parti l'anno. Il numero degli organici deve essere assolutamente compatibile con qualsiasi scelta organizzativa che viene messa in atto nel rispetto della sicurezza di tutti. Ivana Fogo, ex ostetrica, ora sindacalista, conosce questa realtà. Se si vuole garantire l'apertura dei punti nascite allo stesso tempo si deve garantire la qualità del servizio sanitario e non si possono lasciare le parti sguarniti. Nel periodo estivo per di più la faccenda è ancora più ostica perché il personale cala ulteriormente per via delle ferie. Vanno instaurate le graduatorie e poi si deve essere conseguenti e quindi si deve assumere. Non si vuole assumere a Piove di Sacco, va bene, ma sicuramente si deve assumere a Padova, in azienda ospedaliera, proprio per garantire gli standard di sicurezza. Una risposta va data ai cittadini che non possono, come sempre, pagare le responsabilità altrui.